Una storia iniziata a febbraio 2014. Abbiamo creato il portale Rico Reseller IT. Un filo diretto con Rico per avere un supporto commerciale e tecnico preciso e veloce e per ottenere informazioni, assistenza e quotazioni vantaggiose. Per proporre prodotti che hanno la qualità di un Audi, ma per la prima volta per i rivenditori IT. Una marginalità considerevole, grazie all'accesso a prodotti a valore e a promozioni sempre aggiornate. E dopo sette mesi abbiamo lanciato il programma di certificazione Rico Preferred, che in un solo anno ci ha permesso di ottenere questi riscontri dal mercato. Questi successi sono dovuti alla qualità dei prodotti Rico, ai due anni di garanzia on-site, anche per professionisti ed aziende, ai reseller certificati come te, che hanno proposto con forza il nostro brand, perché il mercato è sempre più... Grazie a tutti i reseller che ci hanno scelto in questi quasi tre anni di successi.